i radicali liberi e contengono antiossidanti sovranio di inverno, gli agrumi, sono ricchi di vitamina C un elisir di lunga vita per la pelle, raccomandato anche il cavolo e poi le uova, dalle vitamine A ed E entrambe indispensabili per il rinnovamento cutaneo al pantenolo, dal omega 3 alla vitamina D hanno insomma tutto quel che serve per nutrire la vostra pelle in momenti di stress meteorologico anche le patate dolci ci proteggono in caso di temperature rigide merito della vitamina A e del beta carotene infine l'amela grana che contiene un antiossidante l'acido e l'agico che difende il collagene naturale della pelle 9 ingredienti per avere un aspetto radioso anche durante il grigiore invernale Bentornata prima le angeli Buonasera a tutti, grazie, ciao Con questo freddo tu cosa consigli? Con questo freddo cosa consiglio? Guarda il vecchio minestrone che faceva la mia bisnonna un minestrone buonissimo che io rimpiamo ancora oggi non riesco mai a farlo così buono, un bel minestrone caldo e anche alla dottoressa Manuela Mapelli nutrizionista che saluto chiedo un consiglio per le temperature polari di questi giorni direi che tutti lo amano, io consiglio il cioccolato 30 grammi di cioccolato fondente ogni giorno ci dà la calca e protegge anche la nostra pelle perché è richissimo di acidi grassi quando non staturi ecco, e fa ancora più freddo in alta montagna dove a tavola c'è una ricetta molto particolare e tradizionale, ecco cosa dopo una lunga giornata di sci non potevamo che presentarvi una ricetta salutista a base di tartufo per renderla ancora più spiziosa e perché no, molto piemontese parliamo di plin in questo caso li facciamo con della polenta macinata a pietra una pasta fresca che viene semplicemente fatta con uova, farina, un pizzico di olio in questo caso siciliano il tutto condito con del parmigiano reggiano e il tartufo bianco sopra a finire grazie